Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania e questo è il mio primo What is in a Day Summer Edition. Per prima cosa l'estate, siccome fa molto caldo, io preferisco tenermi leggera e quindi mi preparo delle fette biscottate con burro de lattosato e marmellata, in questo caso i frutti di bosco, e un bel bicchierone di succo alla frutta, quindi ace. Per lo spuntino a metà mattinata, invece molto spesso, mi capita di mangiare dei biscotti e in questo caso ho scelto qualche biscotto oreo, che sono senza lattosio, e un altro bel bicchiere di succoace. L'estate può capitare di pranzare fuori e quindi, come in questo caso, ho scelto un piatto della tradizione barese. Ho scelto quindi delle tagliatelle, un polipetto piccolo, 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 dell'insalata di polipo con verdure, che sono carote e sedano, e un gamberetto in pastella e avvolto di pistacchi. Mentre come secondo piatto ho scelto del carpaccio di pesce, c'è del salmone crudo, del pesce spada, del tonno, dell'orata, tutto sempre a crudo, e accompagnato da insalata e limone. Per quanto riguarda la merenda del pomeridiano, ho deciso di mangiare un creme dessert alla soia, al cioccolato. Per questo Votity Night Day è tutto, spero vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!